Emonia Letti, bentornato, anzi benvenuto al Palalito visto che è la tua prima partita in casa. Sì, oggi era il mio welcome home, la prima l'aspettavo da tantissimo, è stupendo giocare con questo pubblico, questa atmosfera, tanta roba. Tanta roba anche questo risultato, un risultato che vi proietta al terzo posto in classifica pari punti con Modena, nonostante tutte le difficoltà di questa stagione. Penso che sia un risultato meritatissimo, una sorpresa magari per molti, per quello che abbiamo passato, ma è un risultato meritato per tutto il lavoro che abbiamo fatto, per le difficoltà che abbiamo avuto. In palestra i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario secondo me e questo è un degno regalo per concludere il 2019. Tu l'hai seguita da fuori, insomma come è stato non poter essere parte integrante di questa squadra per così tanto tempo? È difficile, è difficile perché comunque fisicamente mi sentivo bene e volevo dare la mia mano, però grazie al loro spirito, alla loro unione, davvero un gruppo molto unito, molto compatto e questo mi ha aiutato tantissimo. Adesso quanto tempo ti servirà per tornare al 100% della condizione? Questo non lo posso sapere, sicuramente devo riprendere un po' il ritmo di gioco e adattarmi un po' a questo nuovo sistema, adesso vedremo col coach cosa decidiamo di fare, però la voglia e la disponibilità è tantissima, quindi spero di metterci pochissimo.